Ricco di appuntamenti il cartellone estivo di Celle San Vito. Gli abitanti e turisti del piccolo paese della provincia di Foggia si preparano anche per il concerto in piazza dell'Equipo 84. Una band che fa parte della storia della musica italiana. Per il loro concerto, che esisterà domenica 14 agosto a partire dalle 21.30, è previsto l'arrivo di fan un po' da tutta Italia che seguono da anni il gruppo, reso celebre tra la metà degli anni 60 e il trentennio successivo da canzoni senza tempo, come Tutta mia la città, 29 settembre, Io in mente te, Un angelo blu e molte altre. L'Equipo 84 nasce esattamente nella seconda metà degli anni 60. I fondatori storici furono Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella e Vittor Sogliani. Il gruppo entrò subito nelle classifiche con i primi successi, come Io in mente te, Resta, Bang Bang. Il gruppo diventa un'icona della musica beat. Dal 1970 iniziano le metamorfosi che portarono la band ad un graduale scioglimento. La ripresa delle attività in questi anni è stata caratterizzata dalla richiesta di migliaia di fan. Il gruppo oggi è costituito da Tony Mione, Giuliano De Leonardis, Roberto De Vincenzis e Marco Di Marco. Nella scaletta del loro concerto non ci sono soltanto i grandi successi della band, ma anche le canzoni di gruppi storici, amici e rivali per decenni come Nomadi, Camaleonti, New Trolls, Dick Dick e molti altri. Dalla scomparsa di Ceccarelli, la band prende il nome di Equipo 84, la storia. Il programma dell'agosto cellese 2022 continuerà il 17 agosto alle 17, quando il comune di Celle San Vito conferirà la cittadinanza onoraria al piccolo Celle Ren Melfi, il bambino canadese al quale i genitori hanno dato il nome del piccolo comune foggiano. Il 18 agosto invece il concerto di Angela Piaf.